come ultima figura andremo a fare l'ottagono questa volta partendo dalla circonferenza circonferenza sempre di raggio 3 già tracciata come quelle precedenti e come le altre volte ho tracciato il diametro verticale e il diametro orizzontale devo adesso andare a trovare altri due punti uno qui e uno qui uno qui e uno da quest'altra parte posso farlo o utilizzando la squadra inclinandola a 45 gradi oppure posso utilizzarlo facendo una costruzione con il con il compasso preferisco utilizzare questo metodo perché così anche qualora i due diametri non siano verticale ed orizzontale ma inclinati in qualsiasi altra maniera io posso comunque costruire il mio ottagono quindi tracciati due diametri diamo le lettere a c e f e dobbiamo andare a trovare i punti medi che saranno poi b d f e h quindi apertura del compasso quanto il raggio della circonferenza in modo da non doverla cambiare tante volte e vado a tracciare una puntando in e vado a tracciare un arco in questo modo e sempre tenendo il compasso puntato in e vado a tracciare un arco nell'altra direzione poi punto il compasso in c e vado a trovare il punto di intersezione con il primo arco tracciato stessa cosa faccio in g rimuovo il cartoncino perché perché ora devo tracciare delle linee con la riga vado a trovare qui il punto 1 e il punto 2 ora collego il punto punto 2 con il centro della circonferenza e con la 2 h vado a tracciare una linea che vada fino all'altro lato della circonferenza stessa cosa faccio con il punto 1 ho trovato così i punti b d f e h che ora vado a congiungere e ottenuto così il mio ottagono partendo questa volta dal raggio della circonferenza e così abbiamo completato la nostra tavola di riepilogo delle costruzioni dei nostri delle nostre figure geometriche